Compagno segretario, sì, ho buone notizie. Possiamo partire a razzo con il contratto. Sì, l'abbiamo siglato. Un contratto decisamente migliorativo. Sì, la volta scorsa avevamo un dito nell'occhio. Quest'anno ce ne hanno concessi due. Sarà davvero un contratto col botto. Sì, è rimasto soltanto il razzo. Che povertà. Buon contratto a tutti, compagno. Non parto da me. Che disastro.